Si sono chiusi i termini per presentare domande di iscrizione ai campionati regionali di eccellenza e promozione. Come anticipato nell'edizione del nostro TG Sport di martedì, sono due le defezioni nel massimo torneo regionale. L'Ala Fidelis, società del comune abruzzese di Alfedena, ha deciso di ripartire dal campionato di prima categoria molisana dopo una sola stagione nella massima, se così possiamo chiamarla, ricordiamo, le sole sei giornate giocate lo scorso anno. Out anche il Baranello, che ha deciso di iscriversi al torneo di categoria inferiore. Sarà dunque promozione per la società allenata da mister Emanuele Di Chiro, dopo tre campionati consecutivi in eccellenza. Problemi nel reperire giocatori alla base della scelta maturata dopo ore di riunione. Risolte le problematiche a Boiano e Guionesi. La società matesina biancorossa, grazie all'intervento del sindaco Ruscetta, ha scongiurato la non iscrizione. Dopo le dimissioni del presidente Mario Russo, è stato ratificato un nuovo direttivo che si è preso carico dell'iscrizione e dei relativi adempimenti. La presidenza è stata affidata ad un commissario ad interim, rappresentato dal sindaco di Boiano, Carmine Ruscetta, che è intervenuto in prima persona per risolvere una situazione diventata alquanto difficile. Problematiche risolte anche a Guionesi. Il calcio neuroverde proseguirà anche nella stagione 2021-2022. Per il resto, tutte le squadre hanno confermato la partecipazione, compreso il Campobasso 1919. Unico dubbio legato alla San Leucio-Volturnia. La FIGC è in attesa della ratifica del bonifico, effettuata dalla società della provincia di Isernia. Il team della Volturnia ha presentato la domanda last minute e al momento la FIGC sta aspettando un passaggio che dovrebbe essere formale. In attesa della definizione di quella pratica, sono pronte al ripescaggio Cliternina e Altilia-Samnium-Ex-Alife, uniche due società di promozione ad aver presentato domanda per il salto di categoria d'ufficio. Domani mattina il presidente della FIGC in Molise, Piero Di Cristinzi, presiderà il Consiglio federale per definire i ripescaggi e completare gli organici dei due campionati. Ricordiamo che quest'oggi scadono le domande di iscrizione al torneo di prima categoria.